Questa lezione ti fornirà le conoscenze di base su come diffondere le rappresentazioni digitali pubblicate nei media locali e durante gli eventi. Il modo più veloce per raggiungere un vasto pubblico è pubblicare sui media locali e sui social network. Tuttavia, per quanto riguarda i contenuti video c'è bisogno di qualche accortezza e qualche informazione più specifica. Le rappresentazioni digitali pubblicate tramite piattaforme di condivisione video come YouTube, Facebook e Vimeo ti danno la possibilità di incorporare il contenuto video in diversi siti web, inclusi quelli dei media locali. Nel tuo messaggio o post con informazioni ai media locali includi un collegamento alla rappresentazione barra video digitale già pubblicata. Per estrarre il collegamento da YouTube, fai clic con il pulsante destro del mouse sul video selezionato e scegli l'opzione Copia URL video. Per estrarre il link da Facebook, apri il video e clicca sul pulsante del menu in alto a destra, il simbolo dei tre punti. Seleziona l'opzione Copia il collegamento. I media online locali, i blog o altri siti web, possono utilizzare i contenuti sulla piattaforma video barra social media, video direttamente dai tuoi canali, senza la necessità di scaricarli e caricarli. Questo può essere fatto incorporando il video nel loro contenuto web. Per trovare il codice per l'incorporamento, vai all'opzione specifica per ogni video nelle piattaforme di condivisione video. Per YouTube, fai clic con il pulsante destro del mouse sul video e seleziona l'opzione Copia codice di incorporamento. Dopodiché, incolla il contenuto dagli appunti nel campo per la pubblicazione, o per il creatore barra editor di contenuti sul sito web. Alcuni siti web potrebbero avere la possibilità di includere direttamente i contenuti video di YouTube, cosa che viene eseguita facendo clic sull'icona specifica e aggiungendo il collegamento al video. Per trovare il codice per l'incorporamento, per Facebook, clicca sul menu in alto a destra della pagina e seleziona l'opzione Incorpora. Alcuni media locali hanno pagine Facebook e barra o Instagram molto ben consolidate, nonché gruppi Facebook che possono anche estendere il nostro pubblico. Un buon modo per rendere popolari le rappresentazioni digitali è organizzare eventi. In questi eventi puoi riprodurre barra presentare i video su un ampio schermo. Ulteriore interesse può essere acquisito se il video è presentato dalle persone incluse nella produzione. Il corso è stato creato dal consorzio del progetto Eurica finanziato dal programma Erasmus+. Grazie per l'attenzione.